Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di combi. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Qualcuno? C'è qualcuno? Vado un'interestazione, non rientrammo, non vado a dare un altro posto, vai! C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? A mezzo secolo di distanza, quel sisma che ha devastato la Valle del Belice è stato il primo terremoto devastante del dopoguerra. C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno?